ben ritrovati di nuovo su review oggi vado a recensire insieme a voi questa gonna per albero di natale come viene definita sulla pagina amazon dove l'ho comprata tra l'altro vi lascio il link in descrizione e diciamo un tappeto per per albero di natale dove poter mettere diciamo evitando il contatto per terra i regali e i doni natalizi allora partiamo dal fatto che il prezzo è sui 20 euro link in descrizione per assicurarvi che il prodotto sia quello che vi sto facendo vedere perché ce ne sono diverse alcune non corrispondono le caratteristiche di questa di questo tappeto che vi sto andando a mostrare la cosa che mi piace particolarmente il fatto che è presente in diverse dimensioni allora abbiamo 90 centimetri abbiamo 90 centimetri rosso bianco poi invece abbiamo sempre bianco da 120 e 150 centimetri stiamo parlando appunto del diametro questa è la dimensione che potete scegliere e il materiale come vedete quello di un peluche molto morbido come vedete saranno lì circa 23 centimetri ed è veramente carina come come materiale non è cheap diciamo è il retro è comunque una stoffa una volta che la posizionate sotto l'albero di natale fa veramente un bel effetto io ho usato ordinato quella di 150 centimetri dal prezzo di circa 20 euro quella di 120 dovrebbe costare allo stesso modo quella di 90 cambia un attimo comunque sia scende un attimo di prezzo comunque sia per un albero di due metri e 40 quello che vi posso consigliare che è una gonna diciamo un tappeto che abbia queste dimensioni di 150 centimetri veramente carina la possibilità di lavarla c'è e arriva all'interno di un sacchetto di nylon giusto per poi riporle conservare adesso qua ci sono alcune pieghe dovute al fatto che passando si calpesta però guardate qua dove diciamo è più nuovo ci sono state delle calpestate diciamo dei passi però qua sulla parte più protetta potete vedere come veramente liscia e ben fatta candida bianca come si va a posizionare ve la faccio vedere subito praticamente ha un un'apertura in diciamo in velcro dove voi potete andare a posizionare una volta che avete montato l'albero potete posizionare la vostra gonna adesso vado aprirla insieme a voi come vedete sono presenti uno e due pezzettini in velcro e il terzo è lì alla fine una volta che voi l'avete posizionata sopra i piedi d'appoggio andate come vedete a chiuderla a chiuderla con l'altra parte poi ci sono gli altri pezzettini e così facendo avrete un cerchio perfetto che adesso io qua sono andato a posizionarla non troppo bene però comunque avrete un cerchio perfetto che non si nota quindi fa veramente un bel effetto devo dire che sono molto contento dell'acquisto se avete domande non esitate a pormele e il link in descrizione come come vi dicevo prima mi raccomando datemi il vostro feedback